Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial ti spiego come risolvere l'errore del Windows Update ovviamente faremo tutto attraverso il servizio e il prompt dei comandi ovviamente questo errore riguarda il 0x800 706 43 riguardo chi non riesce a scaricare e installare l'aggiornamento quindi quello che faremo in questo video è ripristinare ovviamente Windows Update e riprovare a vedere se si può installare questo aggiornamento ovviamente scrivete sulla barra della ricerca servizi, vi porterà sui servizi scendete fino a giù fino a trovare la raccolta eventi di Windows ovviamente come puoi vedere a me è arrestato questo servizio vado a mettere su automatico e avvio il servizio una volta avviato il servizio non ti resta che fare applica se hai questo problema anche su Windows Update eccolo qua il servizio di Windows Update clicchi sopra se è arrestato fai avvia e metti tipo di avvio automatico e fai applica una volta fatto questo devi riavviare il tuo sistema se no non possiamo procedere alla parte del prompt dei comandi quindi andiamo su cmd eseguiamo come amministratore il prompt dei comandi in descrizione ti ho lasciato una serie di comandi da inserire eccoli qua riguarda la configurazione sul cmd questo qua e ne metti uno alla volta quindi copia e fai ctrl v e lo incolli qua e fai invio operazioni riuscite lo fai anche con il secondo comando fai copia fai ctrl v e fai invio operazioni riuscite terzo comando e come quarto comando eccolo qua ctrl v e fai invio una volta fatto tutto chiudi qua e riavvi di nuovo il sistema operativo una volta fatto andiamo su windows update quindi windows verifica disponibilità aggiornamenti e vediamo se ci fa fare qualche aggiornamento su windows come puoi vedere gli aggiornamenti funzionano non ho niente da aggiornare però se non dovesse funzionare ritorna di nuovo su servizi scende fino a giù fino a trovare di nuovo il windows update clicchi sopra e interrompi così l'esecuzione e lo avvi di nuovo lo fai su automatico o manuale oppure quest'altro automatico con l'avvio in ritardo quindi e fai applica in alto a destra ti ho lasciato un'altra guida su come risolvere questo errore con un altro metodo quindi ti consiglio di guardare anche l'altra guida se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao